Credo che il potere del design consista nella sua capacità di innovare per rimanere attuali. Il tavolo disegnato per Caligaris vuole esprimere nel suo intento progettuale proprio questa volontà. Tre forme uguali e concentriche creano il design di questo tavolo. La base, la colonna e il piano formano un disegno puro ed essenziale. Un segno semplice ma immediato e proprio per questo è voluto nel suo aspetto concettuale. L'aspetto funzionale è dato dalla scelta progettuale del basamento centrale che ottimizza l'ingombro a favore di uno spazio fluido di utilizzo. Forma e funzione si completano con la scelta e l'abbinamento dei materiali e delle finiture, una personalizzazione declinata ai nuovi mood di Caligaris. Olli si può definire la sorella maggiore della seduta in S. Ne mantiene i tratti distintivi come il mood anni 50, il fusto in metallo e le comode scocche imbottite. Per offrire un appoggio anche le braccia abbiamo esteso morbidamente lo schienale sui fianchi così da incrementare il comfort complessivo della seduta. Per completare la famiglia di sedute Olli abbiamo disegnato anche lo sgabello a due altezze, adatto sia per l'ambiente domestico che per il contract.